Ma non serve un weekend di lavoro, basta un gruppo Whatsapp, lo chiama Zombies e gli dice signori se questo governo cade su una vacenda come l'ILVA, qua scompariamo tutti, diventiamo gli zombie della politica italiana, forse la capiscono, perché le cose, lo diciamo per chi come non fa il giornalista e a casa ci sta ascoltando, l'ILVA vuol dire l'acciaio per i nostri cantieri, tra l'altro, i nostri cantieri sono tra i migliori del mondo, facciamo delle navi, delle spettacolari, vuol dire pagare 800 ditte di trasporto che lavorano per l'ILVA e hanno smesso di pagargli le fatture che risalgono quest'estate e quindi ha ragione, è stato detto poco fa, nel meridione questa cosa è drammatica, ci sono persone che hanno dei camion, hanno fatto il lavoro e non vengono pagati, gli hanno già detto che non pagano le fatture.